E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Sono oltre 1300 le piccole imprese che fanno riferimento al mandamento di Arzignano e Montecchio Maggiore e il centro castellano si distingue per il numero e la qualità delle proprie attività produttive. Proprio a ridosso della vasta area industriale e artigianale del Comune oggi è attiva la nuova sede di Confartigianato. Da Corte Capuleti a Via dei Carpani, laterale di Viale Europa. Qui è stata trasferita da qualche tempo la sede dell'Associazione degli Artigiani di Montecchio Maggiore che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta i soci per festeggiare assieme un evento che, nella tradizione di una categoria fortemente legata al territorio, ha sempre un significato particolare. Come sottolinea il presidente mandamentale Guerrino Mazzocco sulla scorta di quella vena di ottimismo che caratterizza ogni imprenditore e ricordando l'inaugurazione di un'altra sede, quella di Chiampo, avvenuta appena un anno fa. L'anno scorso dicevo che era un raggio di luce nel buio, oggi direi che è un'aurora, un po' nuvolosa, ma le nuvole si stanno diradando e poi avremo il sole, speriamo in bene. Ma poi ci sono motivazioni di ordine pratico che non possono certo sfuggire alle centinaia di imprese che si appoggiano all'ufficio degli artigiani di Montecchio Maggiore anche per fruire dei servizi che vanno dalle paghe alla contabilità, dal credito alla sicurezza e all'ambiente. Una cosa importantissima che è la questione logistica, perché da questa strada si arriva in zona artigianale, quindi gli artigiani sono qua in un batter d'oggio. Non solo, con la bretella che adesso andrà al vecchio casello dell'autostrada, tutti i nostri clienti che abbiamo da prendola sono molto più avvantaggiati a venire in questo posto. E l'inaugurazione ha segnato anche l'avvio della mostra, promossa per l'occasione dalla confartigianato mandamentale, denominata Art City, che colloca opere d'arte in spazi aziendali aperti al pubblico, oltre a quelli della sede dell'associazione. Una rassegna, come ha spiegato il suo curatore, lo storico e critico d'arte Gabriele Romeo, concepita in modo che tutti possano essere coinvolti e partecipi, ammirando le opere degli artisti Vico Calabrò, Giorgio Celiberti, Maurizio Delotto e Domenico Scolaro. Opere di pittura, incisione e scultura si potranno quindi ammirare fino al 16 ottobre all'interno delle ditte Silvano Camerra, Gelateria La Voglia Matta, Salone Rosetta, FG Elettronica, L'Artigiano del Corso, Anna Rosa Cortivo, Antonio Brugnolo e Figli, Creazioni Mariage e Salone Cristina. Inoltre, a partire da luglio, è prevista una serie di workshop ad ingresso libero, che abbinerà due filoni, uno più tecnico aziendale e uno di stampo culturale. Tra i temi, come fare business all'estero, la produzione guarda l'immateriale, come risparmiare su tassa rifiuti e bollette, arte contemporanea e territorio. Il programma dettagliato è disponibile presso la sede di Montecchio Maggiore.